MECK 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 MOUSCITO Che tanto mo shi la pure la xbox e e e e qualcosa poi n'altra playstation e 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 poi n' altra via così cioè a fini che veramente invece su pc gli unici soldi che dovrei continuare a spendere so magari per le schede video per le dam c'è dovresti solo cambia i pezzi non mi piace un bacco più sì che sono arrivato noi ho un tram pc per scuola anche perché questo questo è troppo importante vorrei farlo lenovo lenovo è una marca del merda meglio asus no ai portatili successi parti a prescindere se devi giocare non portatili la alienware costano però sono mostruosi c'è giro la roba al massimo prestazioni 10 secondi all'inserimento ancora 5 secondi raggiungete il contenitore di più rischio e difendetelo se vuoi andare e vuoi ricaricare no c'è uno qua se ci si mette glass lo frega vorrei bussare guarda 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 jager va eccolo viene ah no sei andato scappato fammi vedere no ho visto il drone look de merda si si coglione mi devi guardare di qua non stavo di qua ma sto là io stavo di a twitch io non so se con la stanza è libera si si è libera c'è uno a facciato lo posso veramente pare guarda la boda la persa vuoi 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 questa bia che ti ha sparato dentro l'obiettivo si preso buono regala guarda l'attacco ha eliminato le dimensioni bello il sgdl eh quello da la boda la doc mi ha fatto cagare mano porco dio non so vedere se è stato di ma la boda è aperta non lo so vedendo ha cascato guarda che te lo stavo a dire che c'è stava uno a facciato sopra eh si si me l'avevi detto ho capito ho visto che cascavano pezzetti di legno da quello ho capito che stava lui a facciato seppi io via via valchirico mpx no però il pompa su aereo è una cosa incredibile il pompa su aereo e beh è sempre ravvicinato il contatto si però sopporto stavano i corridoi e quello ho fatto all'inizio era un mostro muo' devi stare attento che voglio fare se non vuole paglia che no il muro ha individuato il contenitore di biorischio e te uno di quattro è il muro ha fatto il muro ha fatto il muro ha forzato il muro ha forzato metti due jegher mano stavano tanto bussando loro stiamo bussando loro però questa è la meglio da difende ancora 5 secondi il nemico ha individuato il contenitore di biorischio oh stanno a arrivare eccolo c'è sleggio qua sul davanti dell'aereo fuori dalla finestra passassero sti cazzo dei colpi no passassero gli farei proprio il culo a strisce c'è stava glasero morto eccolo ah si ho visto proprio c'è questo sleggio che si affaccia vorrei provare a push a glas aiaia sei andato c'è montagna in fondo al corridoio non c'è manco l'anidro ecco io ecco aspetta hai visto montagne montagne pure un altro eh ho visto sono visto con pompa what 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 aspetta cosa oh oh frost oh frost de merda guardalo mo me rianimi rianimami un attimo che do ammazza frost scusa fammi il piacere vieni un attimo qua rianimami rianimami un attimo ma mica si muove figurati sto dietro a lui ecco si è mosso mi ha ammazzato mi siete andati tu via tutti e due che handicappatio senti frost de merda vota un po' sto cretino vota cioè ha buttato fuori sto cretino di frost votalo votalo vota si vota si per favore perché l'ha affalato perché voleva la kill perché se no che cazzo stai a dire si ma pure sorry ma è scritto ma guarda che faccia tosta c'ho lo scudo almeno hai guardato mica che roba che c'ho è nel mezzo no mi sa che c'ho lo scudo inserimento tra 10 secondi ben fatto il contenitore di violistica è stato infiluato inserimento tra 5 secondi ma non mi vede ma non mi vede ma non mi vede raggiungere il contenitore di violistica difendetelo ah ignorante ok poi si vanno il controllo ecco lì e c'è meno io se affaccia poi faccio un airshot di quelli che si ricorda per tutta la vita dai boccava a cazzo culo come prima manda al drone ma mando aspetta l'ha mandato twitch l'ha mandato twitch porco due per male che non sono entrato non si vedeva no ma piato però un po' ho paura qua su io tocca andare di piano bro non pisto cazzo di muro chi è termite è morto è morto carica di inflazione pronta sento uno che passeggia uh mina questa non l'avevo vista nuovo caricatore io però ho conto la giusta eh vabbè però so gay io cioè che tiro faccio lo scudo coglione che sono stato si vabbè ma pure doc c'è da di che ha sparato completamente a caso eh vabbè dai sto rondo andato c'è doc lì per terra sdraiato che se ti affacci gli fai una faccia come un peperone bello quello è il rook c'è pure doc poco più dietro è proprio lì sdraiato sotto an sedile vai vai gli fai una faccia come un peperone vai senza paura sei blackbeard è qua ok ecco tieni la mira è a destra tutto a destra e c'è un altro dietro dietro ah mi sono affinato anche è morto attraverso ah addirittura penso muovi solo sparato no io non m'ho visto che io la mpx compensatore non c'ho ancora visto il freno di bocca annaggia non c'ho fatto la piragna però maschile se va senza palle sto gesto da mpx proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi sono i coraggi un po' chi ha da io sono tutti i percolati è un bel problema ho messo mezza telecamera a fare corsa un ferrariato back nuovo caricatore offre la posa spiazzo la nitro ricarico ce la devo tutti qua ferito sta cazzo di nitro c4 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 e muovi fatto salilato il febbe ebbe e fatto salilato al fa la persona sbagliata madonna ebbe e abbiamo lo percolo ebbe quanto ho fatto 3-2 dai questa grippa a salvo